Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video, io sono Maullo941 e oggi siamo tornati sulla MaulloCraft Signori, nuovo episodio, nuova avventura, nuova esplorazione che andremo a fare oggi Allora, signori, prima di partire con il video vi ricordo di iscrivervi al canale Vi ringrazio per i like, per i commenti, per i suggeriti e per il supporto Vi ricordo di fare un salto sul mio secondo canale, mi trovate come Maullo941bis Vi ricordo di seguirmi sui social, mi trovate sia su Instagram che su Facebook Dove tramite i social vi aggiorno su quando escono i video e su quando andiamo in live Sia su questa piattaforma che su quella viola Di solito qui su YouTube mi ci trovate, signori, alle 9 ogni sera, tranne il sabato E poi guardate un'occhiata ai link in descrizione al video per poter rimanere sempre collegati con il canale Detto a tutti, signori, non perdiamo altro tempo e partiamo con il video di oggi Allora, signori, cosa facciamo oggi? Oggi andremo in esplorazione Anche se la cosa non mi mette molto a mio agio Però sì, allora, vi spiego il perché Perché ho trovato Aspettate, no, mi porto la canna che sicuramente mi dà più sostanza Ho trovato giù in miniera Ora vi farò vedere come ho modificato la miniera, signori, signori miei Giù in miniera, scavando, 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 ho trovato una caverna Ho trovato una grotta Ora, so perfettamente che non siamo per niente equipaggiati per andare in esplorazione, signori Ma qualcosa bisogna pur fare Di necessità virtù, signori Allora, intanto ci facciamo una bella spada di quelle giuste Così possiamo un attimino affrontare i nemici Questa la mettiamo da parte Poi ci facciamo anche un picconcino Così siamo belli coperti anche col piccone Andate così E siamo pronti, signori Vediamo se, io non ricordo se giù nella miniera abbiamo delle altre scorte di ferro Che magari ho trovato durante aver scavato qualche galleria Vediamo un attimino Perché un minimo di armatura me la vorrei fare Allora, lanciamoci di sotto Sperando di centrare l'acqua Perfetto Signori, la miniera l'abbiamo modificata così Questa è l'entrata Qui ho messo delle casse di lato In cui qua non c'è niente Qua c'è tutta la redstone che abbiamo trovato Qui ci sono tutti i materiali che abbiamo trovato E qui c'è tutta la pietra Vediamo se qui c'è del ferro Sì, abbiamo altro ferro, per fortuna E qui c'è dell'oro che abbiamo trovato Anche questo, girovagando per il mondo L'oro lo mettiamo qui al momento Facciamoci quantomeno Qualche pezzo di armatura, signori Quanto meno per avere un minimo di protezione Questo e i pantaloni No, aspetta, che cazzo la stai facendo? Questo e i pantaloni, dai così Questi ce li teniamo eventualmente per Una necessità Una necessità di rifarci la spada O rifarci il piccone Qui ho fatto così, signori Da lato all'alto ci sono le varie gallerie Segnalate dal blocco Qui ancora dobbiamo scavare Qui siamo ancora work in progress Comunque, la galleria che ho trovato La galleria, la caverna che ho trovato Dovrebbe essere qui No, non è qui Aspettate che Già mi sono perso, signori Aspettate che cerco la galleria Qui ci sono i diamanti Ok Quindi dove sta la galleria? Dove sta la grotta? Forse di qua La trovo, signori Ritorniamo subito pronti per l'esplorazione Ok, signori Ci siamo Era la fine di quel tunnel Che abbiamo preso La seconda Ok, signori Questa è la grotta Che abbiamo trovato Lì già ero provato ad andare Cosa bellissima C'è un diamantozzo lì Che adesso Prenderemo, signori A fine Quando cercheremo di tornare a casa Là ci sono delle abis d'azzoli Allora, andiamo intanto in questa direzione di qua Recuperiamo Non tanto la pietra Tanto il carbone Ok Già subito dimostri Che ci vengano a salutare Facciamoli fuori velocemente Dai, che dai Così Allora Qui vedo dell'oro Che prendo molto volentieri Qui c'è un altro zombie Metti la torcia Ok Occhio allo zombie, signori Lug terribile Dai, farlo fuori Perfetto Recuperiamo quest'oro Con loro che cosa ci possiamo fare, signori? Ragazzi Ditemi, ditemi Datemi dei suggerimenti Per fare qualcosa con loro Potremmo fare tante armature Praticamente Ho sentito una zombie cadere Oh, qua c'è del ferro Mi ero perso il ferro, signori Che ora come ora È la cosa più importante Che dobbiamo recuperare A parte i diamanti Trovassimo i diamanti Sarebbe tantissima roba Tre però ce l'abbiamo, signori Quindi sappiate Il prossimo episodio Andremo a fare Il portale del nether Che già ho deciso dove farlo Lo faremo vicino a casa Lo faremo vicino a casa Ok E il ferro Ce l'abbiamo Spatozza in mano Torcia Ok Continuiamo a illuminare Qua c'è dell'altro ferro Di qua si sale C'è un creeper Che non mi sta per niente Simpatico Creperino mio No, 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 no A posto Perfetto Creeper Mannaggia a te Ma distrutto il ferro che c'è stava qua Dai, recupera, recupera Recupera, recupera Recupera sto ferro Allora Continuiamo l'esplorazione, signori Io eventualmente i materiali Posso anche prendere Dopo Vediamo dove ci portano tutte queste caverne Di qua dove si va Esploriamo, esploriamo Per monti e per città Signori, non ci ferma nessuno Abbiamo le nostre torce Abbiamo un'arma E non andiamo da nessuna parte Perfetto Allora, recupero questa parte di qua Recupero tutto I materiali che ci sono da questa parte Signori E ci vediamo per esplorare l'altra parte Ok, signori Allora Andiamo di là Mi ispira di più Quell'autorità della caverna Ecco, proprio dove c'è sta il Kriven Che cosa bellissima Krivel, tu riesci a venire qui da me? No Però ti fa esplodere da solo E mi sta bene Mi sta bene Allora, mettiamo dei blocchi Qui per fare un ponticello in sicurezza Ok Ponticello qui Qui c'è dei lapislazzuli Qui non vedo più nulla di pericoloso Qui si gira attorno da quel lato Diamantozzi per noi? No Neanche per il Ci siamo capiti Allora, mettiamo una torcetta qui? No Dovevi mettere una torcia Porca, se no un blocco Ok Quindi qui abbiamo tanto ferro da recuperare Lapislazuli da recuperare Lace del redstone Ok Signori So che perfettamente Che non è una cosa bellissima da fare Ma Ho bisogno di stare in sicurezza Ho bisogno di stare in sicurezza Quest'acqua di qua però la si può chiudere Dico non mi serve La chiudi quest'acqua Grazie Gentilissimo Perfetto Allora Qui si apre in maniera terribile tutto Allora Facciamo un attimo di Andiamo prima dal basso Signori Andiamo prima dal basso E andiamo avanti con l'acqua Per forza Per forza Perché voglio anche recuperare Tutto quello che possiamo recuperare Mettiamo delle torce Così Mantenerci accese Diciamo che la lava Ora come ora Non mi serve Tantissimo Però Meglio un poco lasciarla Non si sa mai signori Un domani potrebbe tornarmi utile la lava Magari vogliamo fare un bel pozzo Per incendiare l'incendiabile Quindi andiamo Andiamo di qua Andiamo bordo 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 Facciamoci la stradina bordo bordo E vediamo cosa c'è Dall'altra parte di questo Mucchio di lava Qui c'è dell'altra redstone Che Dico C'ho già le tasche piene della redstone Non mi serve l'altra redstone Io non so fare i circuiti signori Quindi sinceramente Tutta questa redstone a noi Non serve minimamente Qui per caso Un diamantozzo così Per caso Lo dico Me lo dai? No C'è la redstone C'è il carbone? No Non mi dà nulla Vaffan Vaffan bagno Allora Ui diamantozzi signori Questa è pura fortuna Signori Due diamantozzi per noi Bello così Aspetta aspetta Fermi tutti Fermi tutti Fermi tutti Fermi tutti Metti un po' d'acqua No Troppa poca acqua No Ho sbagliato il tasto Ok Calma Calma È sangue freddo Diamantozzi per noi Qui finisce tutto Ok Qui finisce tutto Quindi direi che Quest'acqua la potremmo anche Chiudere C'è acqua ovunque Io più rompo Più esce acqua Va bene Ok Non è qui la fonte D'acqua Va bene Va bene Va bene Dove cazzarola è la fonte D'acqua No È un lago No Siamo finiti sott'acqua Signori Che cosa spettacolare Che cosa spettacolare Signori Fermi tu Come si leva tutta Siamo sott'acqua Bellissimo Ci voglio tornare subito Ci voglio tornare subito Ci sono i magma block Magma block Siamo nell'oceano Praticamente Bellissima Spettacolo Torniamo indietro Che stiamo a morire male Va bene Calma e sangue freddo Allora signori Calma e sangue freddo Regoliamo un po' d'ossigeno Ok Qui abbiamo trovato Due diamantozze Sono semplicemente due Questi diamantozzi O mi prendi in giro Mi prendi in giro Mi prendi in giro No Sono solamente due Perché troviamo così Pochi diamanti Porca miseria Li troviamo col contagocce Li troviamo col contagocce Allora io direi di prenderli Come se non ci fossero domani Dai così Due diamantozzi per noi Va bene Va bene Due diamantozzi Bellissimi per noi Torniamo Aspetta Recuperiamo questo carbone Torniamo Abbiamo l'altra parte Da visitare Di caverna Signori Due diamanti li abbiamo trovati E uno che c'è pure all'entrata E so tre Possiamo farci il piccone Signori Possiamo farci il piccone Questo lo recuperiamo pure adesso Chi se ne Come si suol dire Ok Sappiate che abbiamo Il nostro piccone di diamanti L'accio del ferro Che recupero dopo Signori Lo recupero dopo Voglio continuare a dare La spruzione Anche se penso Che da questa parte Non si andrà Da nessuna parte Perché se da là C'era il mare Dico non penso che Di qui ci sia Qualcosa interessante Ferro Questo è l'acqua Che abbiamo trovato noi Ok Non è l'acqua Che abbiamo trovato noi Questa Sì No Forse chissà Perché no Non è l'acqua Che abbiamo trovato noi Signori Qualche altra cosa Un altro fiumiciattolo Dove mi porto Il suo fiumiciattolo Allora Sotto c'è un creeper Là c'è un dungeon Non è un dungeon No È lava che cazzo No è un dungeon Signori È un dungeon Bellissimo Mamma mia Ma quel creeper Mi guarda malissimo Ma qui Dove cazzo La siamo Come ci arrivo io là Oh mio dio Si sta complicando Questa escursione Via Via grotta Si sta complicando Terribilmente Allora Stiamo calmi Mi puoi chiudere Questa fonte d'acqua Grazie Gentilissimo Però possiamo andare Di qua Di qua Di qua Di qua Dobbiamo trovare Il modo Di unirci A quel dungeon Di lì Allora Se io Mi accovaccio Tutto Riusciamo a fare Un ponticello Ok Molto brutto Ma ci riusciamo Ci riusciamo Ci riusciamo Va bene Va bene Va bene E Là c'è un altro creeper Ok Stiamo attenti Questa è tutta ghiaia Stiamo attentissimi Signori Che qui la vedo Molto brutta Calma 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 Per caso Ci sono altri diamantozzi Qua sotto No vero Questo è un lago di lava Terribile Lago di lava Terribile Facciamo un attimo Un giro più interno Ok Dove sta il creeper Creeper sta là sotto Ok Calma 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 Bello Già mi sentivo fortunato Di aver trovato Due diamantozzi E invece Guarda qua Una bellissima Miniera Da andare a esplorare Io però Quasi quasi Signori Ora vedrei Di fare Una scala Per tornare Verso l'alto In modo tale Che la miniera Non la visitiamo Oggi Ma Ci organizziamo Per un altro video Signori Se no Fanno tutto oggi E no Non va bene così Non va bene così Allora Calma 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 Anche se nel dungeon Posso trovare tantissime cose Fermi tutti Allora Siamo calmi Calma e stanco e freddo Lui può arrivarci qua Penso di no Ok Calma 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 Non dovremmo essere tanto lontani da casa Perché comunque La grotta è vicina Io ho dei diamanti Non posso rischiare di morire male Signori Quindi Attenzione Ok Siamo al dungeon Ok Perfetto Perfetto Ok Sì Ci siamo Allora io direi Da qua Visto che il dungeon parte da qua A fare una bellissima scala Che sale verso l'alto Signori Mangiamoci tutto il piccone Ci facciamo una bellissima scala Che sale verso l'alto Così Torniamo in superficie Vediamo dove sta casa nostra Vediamo dove è sto coso E Prossimamente In uno dei prossimi video Perché Con calma e stanco e freddo Riusciamo a fare tutto Signori Con calma e stanco e freddo Ci organizziamo tutto Perché dico Tre diamanti Devo per forza Prendere l'ossidiana Per fare il portale Signori Non esiste Non esiste Andiamo E recuperiamo Pure tutto quello Che ci sarà In questo dungeon Piano piano Ok signori Il sole Sta sorgendo Là c'è uno scheletro I ragni In questo momento Non dovrebbero Faccio più niente Però il creeper Magari no Il creeper Magari no Il creeper Magari no Il creeper Magari no No Ma ha distrutto Tutta la scala bellissima Che avevo fatto Mannaggia a lui Ma porca miseria Ma porca creeper Ma porca miseria Tutta la scala bellissima Tutto distrutto Tutto distrutto Creeper Del geyser Ok Ai Lo scheletro Non dovrebbe bruciare Col fuoco Con la luce Mannaggia a lui Ok calma Allora Secondo le coordinate Casa nostra In quella direzione Allora Sono in decennio Dovremmo un attino Segnalare Il tutto Ok Quindi facciamo un attino Una 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 Un qualcosa Che mi possa segnalare Che qui È il La mia La mia miniera Allora Facciamo una specie Di totem Terribile Inguardabile Che però Mi serve Mi serve Come se non c'essero Sono domani Facciamo una cosa Di questo genere Ok Da qui dovrebbe essere Abbastanza visibile Almeno penso Almeno penso Mettiamo una torcia Spacchiamoci le ginocchia male Ok E abbiamo detto Che casa nostra Deve essere in quella direzione Allora Lì c'è la savana Ok Lì c'è la savana Qui ci sono i fiorini blu Ok I fiorini blu Erano vicino a casa mia Se non ricordo male Comunque con calma Ma perché siamo vicini al mare Quindi non dovremmo essere Tanto lontani da casa Questa l'avevo già vista La barca Ok Ok Ci sono Ci sono Ci sono Ci sono Non è lontanissimo Non è lontanissimo Là c'è la nostra barca Là c'è la nostra nave Ok Quindi dobbiamo andare Semplicemente In tutta la direzione Da quel lato Della nostra nave Perfetto Va bene Va bene Mamma mia No sto scemo Sono tutto scemo Ho appena detto Stiamo cadendo male Stiamo veramente Così male Va bene Va bene Allora Torniamo velocemente a casa Signori Facciamo il piccolo di diamanti E ci salutiamo Per questo video Ok signori Eccoci qui Eccoci qui Ce l'abbiamo fatta Ce l'abbiamo fatta Ce l'abbiamo fatta Dai così Bel picconotto per noi Fiamo il piccolo Signori Che già è l'impresa E l'impresa del momento I piccone per noi Possiamo andarci A prendere L'ossidiana Signori Tanta roba Dai così Dai così 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 Facciamo Anche la copertina Signori Va bene Signori Carissimi Detto questo Io vi ringrazio Per questo video Vi ringrazio per i like Per i commenti Per i suggerimenti Abbiamo tantissime cose ancora da fare Dobbiamo cercare delle mucche Dobbiamo creare il portale Alle spalle Su quell'isolotto di sabbia Alle spalle Alle mie spalle Dobbiamo andare a visitare il dungeon Dobbiamo fare tantissime cose Detto questo Vi ringrazio per i commenti Per i suggerimenti E per il supporto Noi ci vediamo sempre qui sul canale Per un prossimo contenuto Bella raga Ciao